vai ares facciamo il piano cartesiano guarda bene i punti 3 meno 3 dove sta vai congiungi ok adesso 3,3 ok bravo poi meno 3,3 ok ok guarda la figura che figura è è un quadrato è un quadrato bravo scrivilo quadrato quadrato ok bravissimo stai attento sulla e che cosa dobbiamo scrivere e quindi ok bravissimo batti il 5 bravo 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 bravo